Buonasera e bentornati per la quinta puntata del Rosie Show. Ho pensato molto all'attività da proporvi stasera finché non sono arrivata alla conclusione più ovvia. Durante la quarantena, hashtag io resto a casa, ma soprattutto hashtag io mangio tantissimo. Non è capitato anche a voi in questi giorni di avere o subire un improvviso raptus culinario? Beh, a me di sicuro. Per quest'ora vi mostrerò le mie abilità ai fornelli. Oggi prepareremo una torta. Ho trovato la ricetta sul mio blog preferito, vi lascio il link in descrizione. Contiene tutti i miei ingredienti preferiti, quindi verrà buonissima! Avremo bisogno di latte, un wurstel, farina, zucchero, formaggio, un cetriolo, della salsiccia, panna con caramelle, cioccolato, cannella, sale e pepe, sugo. Basta mischiare bene il tutto e infornare per 35 minuti a 183 gradi esatti. Et voilà! Cotto e rosincato Questa ricetta è stata sponsorizzata da Parole di Legami. Leggi la favola che contiene questa ricetta, link in descrizione. Coccolarsi un po' in questo periodo è più che doveroso. Fidatevi di me, che di coccole sono un'esperta. Concludiamo la serata con la citazione del giorno. Il cane desidera il tuo affetto più della sua pappa. Beh, più o meno. Charlotte Gray Se lo show vi è piaciuto, scrivetelo nei commenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci vediamo venerdì prossimo alle 21. Ciao!